Carlo Brandaleone, grande giornalista sportivo, in questo caso in veste di amante del basket, quindi non del calcio. Questa vicinanza con uno sport minore, qual è l'entusiasmo che ancora ti porta in questi campi? L'entusiasmo che nasce molto lontano, perché il Verga è una squadra che ha quasi 40 anni di vita, io ci sono cresciuto, ci sono nato, quindi fa parte della mia vita, poi Simona, che è stata una nostra giocatrice importante, forse è la nostra bandiera per tanti anni, ha ricominciato questo lavoro, ci ha un po' riportato quell'entusiasmo che forse si era perso, le storie forse non si ripetono mai uguali, però chissà che a distanza di tanti anni non si riesca a riportare una squadra di basket in Serie A, come è stato fatto negli anni 80 da al Verga, quindi chissà, siamo qui, l'entusiasmo delle ragazze, vedere tante ragazze giovani che si impegnano in uno sport è comunque un fatto importante per la città, quindi perché no? Le aspirazioni sono sicuramente di fare bene, le aspettative erano appunto quelle di poterci piazzare comunque a mezza classifica e sicuramente diciamo abbiamo dato un forte approccio al campionato e penso che potremmo fare anche meglio, dato che comunque ormai siamo prima in classifica praticamente e speriamo di continuare su questo passo. Senza dubbio l'aspirazione massima è quella di avere il maggiore minutaggio possibile, ma anche di fare esperienza, che è poi il nostro obiettivo, in modo da poter avere anche una maggiore esperienza nei campionati giovanili, dove poi punteremo sicuramente al massimo, sia come Under-19 che come Under-17. Io sono stato uno sportivo, sono uno sportivo, mia cognata è una sportiva e poi l'amicizia che ci lega con Simona Chines, il fatto che il basket sia uno sport non come il calcio molto popolare, ma uno sport un po' più sano, dove poter anche realizzare un settore giovanile, un'attività sociale, dare un contributo alla città di Palermo. Massimo Costa, Presidente regionale del CONI, oggi la presentazione del Verga con un nuovo sponsor, ma diamo una motivazione per questa nuova squadra, un nuovo input per lo sport palermitano? Beh, è una realtà importante, tra l'altro una realtà storica, tradizionale della nostra attività sportiva, l'attività sportiva palermitana, che ha dato tanto allo sport siciliano, molti atleti hanno calcato anche i campi dei giochi delle isole, regalandoci dei risultati importanti, noi siamo attualmente i campioni del mondo, grazie anche ai risultati del basket, per cui guardiamo con grande interesse, con grande attenzione e con grande affetto a questa realtà sportiva, augurando i successi più importanti, i successi che questa città merita. Grazie a tutti.